video di two cyclopes and three hands fight game per sega mega drive è un picchiaduro di incontri molto semplice utilizza un tasto per l'attacco uno per saltare uno per lanciare delle stelle che si caricano mentre si combatte ci sono diversi personaggi che credo siano personaggi di videogiochi creati dagli sviluppatori di questo è un gioco molto simpatico molto carino è anche divertente c'è anche una sezione bonus in cui bisogna distruggere un'auto i primi incontri sono veramente molto facili però poi verso la fine c'è qualche combattimento un pochino più impegnativo se volete scaricarlo in descrizione c'è il link a quel link potete scaricare tre versioni di questo videogioco io ho realizzato il video con la versione che io ho ritenuto più completa che è la new challenger buona visione e se il video vi è piaciuto non dimenticate un like un'iscrizione al mio canale e la condivisione del video un'iscrizione al mio canale A presto! e 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 Noi, 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 noi. Noi, 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 noo. You win! Round 2! You win! Perfect! Wooooo! Acri You win PERFECT WOOOOOO ROUND 2 YOU WIN PERFECT WOT PERFECT WOOOOOO FORCIP Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!